Penso che abbiamo giocato ancora una volta una partita solida, la seconda partita consecutiva in trasferta dove giochiamo non una pallacanestro scintillante ma una pallacanestro solida dove siamo in grado di risalire dai momenti negativi e di rimanere in partita e di giocarcela fino all'ultimo possesso per cui secondo me i miglioramenti da un punto di vista mentale rispetto all'inizio dell'anno dove in trasferta eravamo molte volte approssimativi sono evidenti per cui non ho niente da riproverare alla squadra dal punto di vista della volontà, del desiderio di giocare, del fatto di voler provare a vincere la partita di rimanere lì con la testa, di sapere che bisognava soffrire ma non disunirsi e restare insieme La squadra questa sera ha fatto tutte queste cose e poi siamo stati puniti nel finale dalla difesa tortonese che ha messo in campo una fisicità obiettivamente importante e noi non siamo riusciti mai a trovare negli ultimi 6-7 minuti dei canestri, dei tiri, dei tiri agevoli e lì complice magari anche la stanchezza e comunque la differente qualità fisica tra le due squadre e il fatto di giocare fuori casa ci siamo un pochino fermati e siamo in corso in questa sconfitta Davide ha giocato una partita sotto tono rispetto all'ultima ma non si può pensare che un ragazzo di 20 anni abbia la continuità o prenda la squadra sulle spalle ogni settimana e la Guidi può succedere che incapi in una giornata negativa questa è la prima vera partita brutta di Pinkins e Tinsley secondo me non ha inciso ha giocato una partita normale tenendo conto di quelle che sono le sue condizioni fisiche ciò che lui può realmente fare in campo dal punto di vista fisico in questo momento è stato in campo 29 minuti provando perlomeno lui in questo momento non è che può fare due cose non può far giocare la squadra, attaccare e difendere perciò si sta concentrando sul fatto di difendere, dare una mano al rimbalzo e provare a far giocare i compagni questo è quello che secondo me è nella sua testa e quello che lui sta portando a fare non avendo la possibilità di giocare al 100% bisogna decidere quella parte energia con la parte di cose dove metterle e lui le mette nelle cose che poi sono le sue cioè giocare con la squadra è logico che a caldo uno può dire grandi stupillaggini, bisogna rivedere bisogna rivedere la partita e bisogna capire se quello di italiano era realmente fallo a rimbalzo su Endoia, bisogna capire se quello precedente su Martinoni fosse o meno fallo come una serie sì, però qui stiamo parlando secondo me non bisogna parlare degli episodi, bisognerebbe probabilmente parlare di un trend il trend dice che si è tornati a quello che mi sembrava se ho capito bene, se non sto dormendo alle riunioni con gli arbitri fosse stato detto che non sarebbe più successo, cioè che non si giocava più le partite di rugby invece sta tornando a essere cose di rugby una volta lo facevi a tutto campo adesso magari a tutto campo un po' meno però logicamente chi mette le mani addosso per primo a metà campo e dopo diventa un basket a mio avviso magari sarà un po' idonista, inguardabile cioè io al di là del discorso di vincere o perdere penso che la pallacanestro sia una sporca che ha una sua estetica così non c'è niente così non c'è un'estetica c'è calci cazzotti i pugni e finisce una roba così poi dopo magari qualcuno pensa che perdere 70-62 sia un po' più maschio che perdere 192 io non la penso così penso che la pallacanestro se io penso a chi venga a vedere la partita un bambino che va a casa va a casa emozionato dai canestri non emozionato da Endoia che prende al collo Spizzichini Spizzichini, scusatemi, in italiano italiano che a sua volta fa una mossa di karate tipo l'uomo tigre poi in tre ci buttiamo di testa e poi sembriamo la Nuova Zelanda contro l'Australia però questo ripeto è un mio discorso magari così io sarei per un altro discorso però ripeto il trend mi sembra tornato assolutamente questo e poi dopo su quei fischi lì bisognerà riguardarli li riguarderemo noi giustamente Marco riguarderà la sua partita però ripeto noi allenatori la riguardiamo poi da un punto di vista tecnico dopo se uno dovesse mettersi lì e tagliare le clip e dire ma questo è fallo che non è fallo allora io ho dieci diciamo dubbi e ugualmente Marco dall'altra parte ne ha dieci perciò quello non conta io parlo proprio di un trencestistico a me così non piace a me proprio così non piace per niente perché è un altro modo di giocare a pallacanestro che secondo me obiettivamente boh non so se le partite a 60 punti sono belle magari sono fuori posto io e dire così ma poi ci possono essere partite a 60 punti perché i giocatori non segnano non perché ogni volta che uno tira deve fare una prova di mascolinità forte per cui lo dico dall'altra parte noi come Bertone due o tre volte ha fatto palleggio arresto e tiro con dovendo scrollarsi uno di dosso e tirava poi uno gli teneva il gomito lui tirava e si guardava in giro e la risposta era degli occhi ma perché ti lamenti e come perché mi lamento ma cioè ho dovuto togliermi i vietcong di dosso ma come perché mi lamento però voglio dire questa cosa qui ormai è tornata per un po' secondo me era stata un po' combattuta adesso è tornata per cui al di là più che l'episodio X e l'episodio Y voglio dire secondo me il punto il punto era precedente e poi ti dico italiano voglio dire a volte sbaglia secondo me è tenuto un po' sotto lente di ingrandimento e non capisco perché perché se non si capisce perché lui per tre anni certe cose ha potuto farle adesso invece non le può più fare e questo vorrei capire perché però sarebbe un'altra polemica inutile però questa cosa qui andava prevenuta perché nel primo tempo c'era stato un altro scherzo in doia Libigovic scusate italiano Libigovic dove su un minuto di sospensione prima in italiano poi in un minuto di sospensione l'ha spinto cioè lì bisogna intervenire no? perché dopo è logico che in un finale punto a punto lui lì aveva preso il rimbazio convinto pim pum pam pam sono giocatori la pressione è alta il battito è a 180 e queste cose possono succedere però ripeto non è il discorso del singolo episodio è proprio un discorso di trend poi se vogliamo fare anche un discorso di personalità uno dei tre signori stasera ogni volta che fischiava fischiava pim fallo tuo se girava se ne andava io non ho fatto i corsi di comunicazione di studio del linguaggio del corpo però così a naso pi 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 e me ne vado ma è così cioè però ripeto non c'entra l'arbitraggio noi non abbiamo perso per l'arbitraggio stasera assolutamente l'arbitraggio ha obiettivamente lasciato il cuore determinate cose e bravo per chi riesce a giocare con il tipo di palacanestro non è la nostra ma non è la nostra neanche per come sia strutturato abbiamo giocatori troppo piccoli che non possono fisicamente fare certe cose grazie a tutti grazie a tutti